I just want it Moser si spinge oltre, arriva la proposta per Cecilia. La replica della Rodriguez Si bruciano le tappe al grande fratello Vip.Stare al passo di Ignazio e Cecilia si fa davvero dura Troppo lesti, troppo rapidi, troppo svelti nel far divampare le loro emozioni.Così alla mattina si racconta di un bacio sulla guancia, al pomeriggio di uno più piccante sulla bocca e alla sera, insomma, i due giovanotti nel giro di una manciata di giorni, hanno sconquassato la tranquillità ormonale che regnava nella casa Ed hanno pure sconquassato quel focoso animo pugliese di Francesco Monte.M.A. La giovinezza è impavida in amore e ragiona col cuore, mentre sragiona con la mente E così il buon Moser ha gettato l'amo oltre l'ostacolo. È arrivata la proposta sensuale Andiamo a scoprire tutto.Ignazio risparmia i fronzoli. Ho voglia di fare l'amore con te, la risposta di Cecilia Che Ignazio abbia in circolo una tempesta ormonale è alquanto palese, punto dunque, il Latin lover Trentino si butta a capofitto, senza fronzoli D'altra parte si dice, che si è giovani solo una volta nella vita no? E se del domani non c'è certezza, recitava un celebre canto del Magnifico, beh, che si aprano le danze Così, tra coccole, carezze e baci, i due si ritrovano ancora avvindiati e la proposta non può mancare. Ho voglia di fare l'amore con te, sempre E' un sussurro quello del ciclista che va a raccogliere in risposta un altro sussurro, quello di Cecilia naturalmente. Tutto il tempo? Senza fermarsi La chioma ondulata del Bel Moser a questo punto ripiomba tra le braccia dell'Argentina Che le zuccherose coccole procedano, punto Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio. E dopo il bacio I fan del reality targato Mediaset hanno già iniziato il conto alla rovescia, punto dopo il bacio è partito il toto timer su quel che ci sarà dopo Insomma, Moser ha tracciato la via, chissà se Cecilia lo seguirà, anche su questo percorso ancor più focoso di quello battuto finora A proposito, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, i due possono tranquillamente considerarsi dei nuovi piccioncini in amore Peccato per Francesco Monte che, udite udite, notizia fresca fresca di oggi, si leccherà le ferite sentimentali sull'isola dei famosi A proposito, se vuoi amore, chissà se vuoi amore, chissà se vuoi amore